ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale art siamo di nuovo dopo una vita su dirt rally allora stiamo per affrontare la prima tappa qui ad argolis della categoria b quindi auto molto potenti abbiamo scelto la lancia delta ovviamente non è che c'era tanto dubbio tappe abbastanza corte devo dire a parte un paio sono 10 tappe quindi ne facciamo in ogni episodio 3 o 4 dipende ovviamente dalla lunghezza quindi argolis grecia la prima tappa guardate queste sono i nostri avversari lancia delta ford rs 200 peggio 205 mg metro che non ho mai sentito audi sport e secondo me l'audi sport è una delle più avvantaggiate e va io lascerei così ragazzi a parte minchia quanti quanta roba c'è da modificare guardate un po' vabbè ci buttiamo subito in pista eccoci qua con la nostra delta numero 24 5 4 3 2 1 via 60 sinistra 3 60 in sinistra 6 bottom hand dentro in sinistra 3 lunga 100 perfetto ragazzi attenzione sinistra 6 media piccolo salto in destra 6 lunga e in sinistra 3 non tagliare continua per 130, destra 3 60, destra 4 salto, destra 3 si restringe, sinistra 4 salto non tagliare, salto poi destra 4 lunga si restringe diventa 360, sinistra 4 salto non tagliare destra 5 lunga 100 discesa, frena tornante sinistro 60, caudella sinistra 6, bello sto tornante curva stretta destra in sinistra 6 poi destra 6 lunga 80 su crinale sinistra 6, frena 60 discesa curva stretta sinistra 100 discesa su punetti stavolta va bene attenzione sinistra 6 media, su punta 60 discesa tornante sinistro in attenzione sinistra 4 discesa poi tornante destro in sinistra 6 in destra 3 media 60 tieni la destra su crinale, attenzione sinistra 4 non tagliare, destra 5 non tagliare in sinistra 4 lunga 80 su crinale, destra 6 in sinistra 6 in destra 6 si restringe diventa 5 40, destra 6 poi sinistra 5 lunga su crinale sinistra 5 su curva difficile con destra non tagliare, curva destra 3 e destra 4 in sinistra 5 e sinistra 6, 60 tieni la sinistra su crinale, 80 su appallamento tieni la destra su crinale poi sinistra 5 non tagliare 80 destra 6 in curva stretta sinistra insidiosa in destra 5 continua per 150 saldo sinistra 5 continua per 100 su cunetta destra 6 cunetta avvallamento attenzione rallenta poi destra 5 poi tornante destro in sinistra 5, 60 tieni la destra su crinale sinistra 6 avvallamento attenzione destra 6, 80 curva stretta sinistra 60 sinistra 6 in destra 4 lunga 60 occhio destra 3 non tagliare in sinistra 4 in destra 3 si restringe diventa 2, 60 occhio occhio sinistra 4 poi sinistra 4 poi curva a cuda a destra poi tornante sinistro sinistra 6 media stai al centro sul crinale dove il bivio sinistra 4 testa 3 lunga stai all'interno in sinistra 2 lunga su avvallamento crinale in destra 5 in destra 2 in ritardo poi curva a sinistra 2 occhio in curva a gommido a destra su pozza d'acqua sinistra 5 si restringe in destra 6 in sinistra 6 in destra 6, 60 destra 1 in curva a sinistra 1 dopo il bivio in sinistra 4 destra 6, 60 e di là a destra salto 100 destra 6 su salto si restringe a destra 5 sinistra 6 in destra 4 su piccolo crinale si restringe in attenzione destra 1 discesa in attenzione destra 1 discesa destra 4, 60 occhio attenzione via di là a destra su crinale in tornante sinistro aperto in destra 6 in sinistra 2 in curva a sinistra 2 occhio in destra 1 su crinale in sinistra 5 in sinistra 6 su avvornamento 80 destra 1 si restringe a panno all'esterno in crinale in destra 4 in sinistra 4 attenzione sinistra 6 poi subito curva a gommido a sinistra non tagliare in sinistra 4 lunga esci da sto cazzo di canale in destra 6 in destra 1 piccolo crinale in destra 2 in sinistra 6 e destra 3 su crinale salto contanza sinistra 6 su avvornamento 80 cazzo attenzione destra 5 su grande salto e sinistra 5 lunga altra guarda è andata malissimo avevamo mamma mia che botto avevamo iniziato bene poi ci siamo persi lungo la strada purtroppo ragazzi siamo in quarta posizione a 21 secondi di ritardo quanto pare la forder s2000 è su un altro pianeta in questa tappa almeno vediamo nella seconda come ci comportiamo in questa tappa questa molto lenta della relai di grecia via destra 4 media poi sinistra 5 60 crinale in destra 3 lunga e sinistra 2 media non tagliare destra 6 lunga 80 un po' di freno a mano sinistra 6 80 su crinale possibile salto sinistra 6 60 destra 2 continua per 100 60 sinistra 4 lunga 100 su crinale possibile salto attenzione destra 3 media si restringe in sinistra 6 media non tagliare 80 crinale intieni la sinistra salto in attenzione destra 5 per 80 si restringe diventa 2 si restringe è scivoloso in sinistra 6 media non tagliare destra 6 sinistra 6 80 destra 6 continua 80 e si restringe diventa 5 sinistra 5 curva difficile con vessa crinale possibile salto 120 su avvallamento sinistra 3 media non tagliare curva difficile con vessa destra 4 media non tagliare 60 sinistra 6 su crinale in attenzione si restringe sinistra 6 media in destra 4 lunga 80 crinale possibile salto e destra 6 continua 100 60 crinale e sinistra 2 lunga in destra 5 lunga si restringe diventa 3 80 sinistra 2 non tagliare si apre lunga in piccolo crinale possibile salto e destra 5 e sinistra 4 media non tagliare in crinale possibile salto attenzione sinistra 6 curva destra 1 media non tagliare e sinistra 4 lunga 80 su avvallamento punetta sinistra 6 e destra 5 media poi sinistra 6 100 tienila a destra su avvallamento sinistra 6 non tagliare destra 5 poi sinistra 6 80 destra 4 si restringe in sinistra 3 non tagliare cazzo cazzo rischio in destra 4 continua per 80 in sinistra 5 media destra 6 attenzione tienila a destra su crinale in curva sinistra 4 lunga non tagliare 100 va bene tienila a destra su crinale in sinistra 5 continua per 100 in crinale 100 crinale si restringe destra 5 si restringe e diventa 4 e sinistra 5 crinale curva destra 4 non tagliare in sinistra 6 60 crinale ma che palle stava andando bene stava andando non tagliare si restringe diventa 3 destra 1 media non tagliare in sinistra 1 media e destra 1 media 80 stai al centro su crinale 100 attenzione si restringe sinistra 6 su crinale destra 5 non tagliare 100 attenzione si restringe destra 6 lunga su crinale e sinistra 6 in stai al centro su 2 crinale attenzione frenna 60 destra 3 media e sinistra 4 media 100 su avvallamento crinale possibile salto traguardo vabbè lasciamo stare ragazzi questa tappa non è andata benissimo però ce li accontentiamo va bene siamo in quarta posizione a 32 secondi di svantaggio bancano 8 tappe non è detta ancora l'ultima soprattutto perché adesso abbiamo una possibilità di diciamo modificare qualcosa e innanzitutto il cambio perché è troppo lungo e in secondo luogo anche riparare la macchina vediamo no sono 1 2 3 4 8 tappe non sono 10 vabbè allora ripariamo il veicolo non ce la facciamo neanche a ripararlo tutto pensate quanti danni abbiamo fatto eh perché abbiamo danneggiato molto nella prima tappa vabbè allora impostiamo un po' il veicolo le marce le accorciamo molto il resto sembra che vada bene così ci buttiamo subito in pista e allora ultima tappa di oggi 2 1 sinistra eh che si apre con una bella falsa partenza scusate eh 5 4 3 2 1 via sinistra 6 80 destra 5 80 discesa cunetta appossamento sinistra 6 su crinale 60 discesa attenzione destra 5 60 discesa destra 5 non tagliare poi attenzione sinistra 4 media poi curva sinistra 3 lunga in destra 5 non tagliare 60 destra 6 lunga su crinale sinistra 6 60 sinistra 6 60 destra 6 60 sinistra 6 crinale in destra 3 lunga attenzione sinistra 5 non tagliare destra 4 stai all'esterno 60 su crinale sinistra 4 continua per 90 attenzione destra 6 in subito tornante sinistro salita destra 4 e tornante destro in sinistra 6 crinale punetta destra 6 l'arco tornante sinistro intorno all'albero 100 salita tornante destro destra 6 crinale 80 sinistra sinistra media e attenzione destra 6 tornante sinistro 80 su crinale e crinale possibile salto destra 6 60 tornante destro 150 piccolo crinale sinistra 6 lunga crinale e attenzione curva destra 3 si restringe salto 60 discesa si restringe sinistra 4 lunga si apre si restringe salto in destra 4 lunga si restringe diventa 3 non tagliare in sinistra 6 60 salto sinistra 5 lunga 60 sinistra 6 e destra 4 lunga non tagliare salita sinistra 6 piccolo salto destra 6 e sinistra 6 100 salita intornante sinistro destra 5 lunga cautela sinistra 6 crinale stai al centro 100 crinale 80 sinistra 600 attenzione destra 2 media intornante sinistro in destra 6 80 su crinale attenzione destra 4 non tagliare stai al centro centro al traguardo 4 secondi di vantaggio la tappa è stata vinta va bene va bene va bene va bene abbiamo 28 secondi di svantaggio adesso purtroppo la la Ford sembra un po' più forte della Delta però adesso abbiamo perlomeno capito come funziona allora ragazzi noi l'episodio lo concludiamo qui il prossimo è Ourea Spervel ah ok benissimo no Ipsona vabbè l'Ourea Spersi vabbè e noi ci vediamo nel prossimo episodio è una tappa notturna ciao a te a te Grazie a tutti.